Allora, buongiorno a tutti. Bentornati dopo questa pausa di qualche giorno. Prima di iniziare la lezione di oggi, qualche informazione su esami e prove per esami. Allora, stiamo predisponendo una piattaforma sulla piattaforma di esercizi un setup identico a quello che ci sarà poi per l'esame. Quindi, indicativamente, entro lunedì, se riusciamo anche lunedì la settimana prossima, eventualmente anche un po' prima, vi abiliteremo ad entrare in questa piattaforma di esercizi e a fare un esercizio che sostanzialmente ricalca in tutto e per tutto quello che è la configurazione dell'esame. Quindi, voi entrerete, andrete a scegliere, visto che quando entrate su esame o su esercizi avrete più scelte, andrete a scegliere questo corso. All'interno di questo corso troverete il link per l'esame di prova e avviato quello vi ritroverete sostanzialmente nella stessa situazione in cui vi ritroverete poi il giorno dell'esame. Quando avvierete quella dimostrazione, quella prova di esame, avrete alcune domande teoriche a cui rispondere. Nell'esame, diciamo, quello in laboratorio normalmente si trovano in un file separato, in questo caso abbiamo pensato di metterle come primi passi in modo che sostanzialmente i primi minuti possiate dedicarli a quelli, non ve ne dimentichiate. E poi c'è un'ulteriore, tra virgolette, domanda, o comunque schermata, che vi permette di avviare il virtual live e sostanzialmente entrare in quello che è una macchina virtuale che corrisponde ai pc che ci sono al live. Per avviare la simulazione dell'esame dovrete avviare prima di tutto il lockdown browser, che è quello che utilizzerete durante l'esame. Ve l'abbiamo messo anche in questa dimostrazione, così è tutto identico. Quindi prima di poterla fare dovrete scaricare e installare il lockdown browser. Vi chiederei, quando inizierete a fare tutte le simulazioni, di segnalarmi qualunque tipo di problema. Quindi su Slack andate a scrivere se c'è qualcosa che è andato storto, di che cosa si è trattato. Quindi l'idea è di utilizzare questo approccio, che è quello raccomandato dall'Ateneo. Ovviamente se ci sono un numero troppo elevato di problemi, cerchiamo qualche soluzione che sia ovviamente compatibile con le stesse modalità, che però eviti problemi tecnologici. Pensiamo di lasciare attiva la simulazione da venerdì, lunedì, quando riusciremo ad attivarla. Stiamo facendo ovviamente un po' di prove noi internamente, prima di poter darla in mano a voi, fino sostanzialmente al giorno dell'esame, diciamo al giorno prima dell'esame, in modo che voi possiate eventualmente provare o riprovare più volte a sostenere questa specie di esame. All'interno troverete un esercizio che è sostanzialmente un tema d'esame passato, mi pare che ci sia online già la soluzione, quindi potete farlo senza guardare la soluzione, potete farlo guardando la soluzione per provare sostanzialmente l'ambiente. L'esame, avete visto, sarà il 23, pomeriggio. Ci sono delle domande a disposizione, ce ne sono nell'esame perché sono quelle che abbiamo messo a disposizione. Le domande sono molto varie, non c'è un pool di domande predefinito, quindi ci sono quelle che avete nella simulazione d'esame e ci sono quelle forse che sono sulle istruzioni vecchie delle modalità d'esame. Devo verificare, però mi pare che sia possibile fare più volte la simulazione, quindi dovrebbe consentirvi di riprovare. L'idea è di lasciarlo a vostra disposizione così potete tranquillamente provare e verificare esattamente l'ambiente, che funzioni tutto, e se ci sono problemi di segnalarceli, in modo che cerchiamo di trovare una soluzione. Allora, domanda, no, prima domanda, ci sarà un altro laboratorio? Allora, ci sarà un laboratorio questo venerdì, diverso dalla simulazione d'esame. Per quanto riguarda la simulazione d'esame, purtroppo al momento la funzionalità del V-Live, quindi le macchine del Live a distanza, sono utilizzabili soltanto in orario serale, ovvero dalle 7 di sera alle 8 di mattina. Non è un limite che dipende da me, per cui venerdì mattina ci sarà l'esame, il laboratorio standard, ok? Mentre invece la simulazione d'esame potrete farla voi in maniera autonoma dalle 7 di sera alle 8 di mattina. Almeno questo è il vincolo che c'è attualmente, non so se lo rilasseranno a breve, quindi venerdì ci sarà un altro esercizio. Stiamo valutando i tempi da darvi, quindi ragionevolmente vi daremo più di 2 ore, perché il tempo di setup, eccetera, porta via almeno 10-15 minuti, escludendo problemi, quindi è probabile che vi daremo circa 2 ore e mezza, ok? Stiamo facendo delle prove proprio per capire quanto tempo porta via la fase iniziale, e quindi darvi tempo sufficiente per concludere tutto. Allora, i repository personale e i repository con gli esempi, però l'esempio non è 2018, ma è 2020, non sono aggiunti al Vlive, però potete ovviamente, visto che il repository si troverà su quella macchina, potete accedere. Ricordatevi che comunque i repository, tutto sarà in sola lettura, tranne i repository del vostro esame. Allora, sul portale c'è già la simulazione di Vlive, però è fatto per un esame che non c'entra nulla con programmazione d'oggetti, quindi è abbastanza diverso. Se avete avuto dei problemi già lì, scrivete pure. Potrebbe aver senso andare a creare un canale Slack aggiuntivo, anzi, lo faccio subito. Ok. Domande e informazioni sull'esame. Non vi ho invitato, se non devo invitarvi tutti, comunque ho appena creato un canale esami su Slack, così potete andare a scrivere lì, quindi se avete già avuto problemi con il Vlive, allora vi chiederei di riprovare adesso, perché nelle settimane scorse era un po' instabile, quindi fate una prova di nuovo con quello che vi metteremo a disposizione, e poi riportate. Allora, altra domanda. Dovrete utilizzare Eclipse per le domande teoriche? No, non utilizzerete Eclipse per le domande teoriche, utilizzerete sostanzialmente quella che è la piattaforma exam. Nella modalità passata, sostanzialmente all'interno del progetto che trovate in Eclipse, c'era un file HTML con un link per accedere a un servizio di risposta alle domande. E' inutile stare a duplicare questo servizio, quindi invece di mettere il link lì dentro, quando avviate l'esame avete la possibilità di rispondere direttamente alle domande di teoria, che però sono formulate esattamente come erano formulate le altre, quindi non c'è, cioè a parte qualche dettaglio grafico di presentazione, non c'è nessuna differenza. E quindi generalmente sono domande con più opzioni, in cui potete andare a selezionare tutte quelle che ritenete corrette. Le domande di teoria sono sbarramento? No, sostanzialmente non c'è nessuno sbarramento, però se non rispondete avrete zero punti, e quindi avrete meno punti. Quindi potete anche non rispondere assolutamente alle domande di teoria, il risultato netto è che perdete dei punti. Ma ovviamente sono 3-4 punti, adesso non ricordo più quanto li pesiamo, per cui anche senza quelle riuscite tranquillamente a superare l'esame. Le risposte errate tolgono dei punti. Allora, gli anni scorsi era così, diciamo che quest'anno, vista la difficoltà tecnologica al contorno, sostanzialmente no, se rispondete bene, altrimenti tutte le risposte corrette concorrono a darvi dei punti. attenzione, vuol dire che se ci sono 5 opzioni e voi le selezionate tutte, è ovvio che selezionandole tutte scegliete anche quelle corrette, però ovviamente quelle non corrette vi portano a una penalità, comunque complessivamente non andrete in negativo sul punteggio relativo alle domande. Quindi il punteggio minimo relativo alle domande è 0. La risposta esatta non è necessariamente sempre una sola, potrebbero essere di più. E quindi la domanda è scegliere tutte quelle che voi ritenete corrette. Potrebbe esserci nessuna, potrebbero essere tutte, magari è improbabile, però potrebbero esserci una, due, tre, dipende dalla domanda. Comunque troverete, a seconda delle domande, o dei radio button in cui ovviamente la risposta è una sola, oppure dei checkbox in cui ovviamente potete scegliere tutte quelle che ritenete corrette. La difficoltà dell'esame cresce in maniera esponenziale? No, sostanzialmente gli esami sono praticamente ragionevolmente simili. Poi ovviamente è impossibile che gli esami siano tutti esattamente identici come difficoltà, però, almeno nelle nostre intenzioni, sono tutti abbastanza comparabili. Poi è difficile saperlo in anticipo perché magari un argomento che a noi, o un tema d'esame che a noi sembra relativamente facile, magari dal vostro punto di vista lo è meno. Quindi, ragionevolmente, le difficoltà degli esami sono più o meno le stesse. Tenete conto che nella valutazione dell'esame non c'è un peso fisso per ogni test fallito. Normalmente quello che facciamo è andare a vedere la difficoltà media, per cui se su 25 test nessuno ne ha superati più di 20, allora è ovvio che ci rendiamo chiaramente conto che l'esame era più difficile di quello che noi abbiamo previsto e quindi andremo a tenere conto in fase di valutazione. Quindi ci saranno degli aggiustamenti in base a quella che poi sarà la difficoltà generale di tutti per l'esame. Preferisco non commentare su questo tipo di affermazioni. Domanda, nella simulazione d'esame ci sarà anche una simulazione di voto? No, esattamente per il motivo che dicevo prima, nel senso che noi non andremo a valutare il vostro codice. Ci saranno i test, ve li mettiamo a disposizione, e quindi potete poi voi andare a verificare quello che avete fatto. Il punto è che per dare il voto non è semplicemente una questione puramente matematica di dire e contare quanti test sono falliti e quante modifiche che avete fatto, perché si tratta di andare poi nel dettaglio a vedere quali test hanno avuto più difficoltà, se in generale chi l'ha svolto l'ha svolto bene, oppure se tutti sono andati male su alcuni aspetti e quindi tenerne conto. Quindi non è fattibile in maniera automatica. E ovviamente non facendolo tutti nello stesso momento, io non posso avere un quadro completo se non qualche giorno prima dell'esame, quindi non ci sarà la simulazione di voto. Se volete avere una indicazione, diciamo così, macroscopica, quello che potete fare è andare a prendere il numero di test falliti e considerarli come una penalità, quindi indicativamente un punto per ogni test fallito. Quello è il voto minimo. Poi ovviamente andremo a considerare anche quante modifiche sono state fatte e quindi le modifiche fatte meno sono, più vi portano il voto in alto. Domanda, avrete accesso alle slide? Sì, avrete accesso alle slide del corso, vi metteremo poi un link. Sarà possibile accesere al vostro repository personale? Sì, quindi avrete possibilità di fare copia in colla di codice, se lo volete, di quello che avete fatto negli esercizi finora. Tenete presente che i vostri repository, qualche giorno prima dell'esame, quindi direi nel fine settimana precedente, verranno impostati in sola lettura. Quindi, una volta terminato il corso, avete ancora qualche settimana per eventualmente fare i vostri esercizi, dopodiché i repository saranno accessibili in sola lettura, quindi potrete ovviamente scaricare il codice che avete fatto, ma dopodiché verrà messo in sola lettura e quindi non sarà più accessibile. Tenete presente che l'anno prossimo, con l'inizio della prossima edizione del corso, il repository vostri verranno cancellati, quindi fino a quel momento saranno accessibili, quindi potete scaricare il codice che avete scritto. E' possibile rifiutare il voto? Sì, la procedura è quella abbastanza comune, quindi verranno pubblicati i voti sul portale, quindi automaticamente riceverete un'email, e dalla pubblicazione avrete qualche giorno di tempo per poter rifiutare l'esame. Quanti giorni dipende soprattutto da quando c'è la scadenza per la prenotazione dell'appello successivo. Quindi normalmente vi chiediamo entro la scadenza dell'appello successivo di rifiutare eventualmente il voto. E quindi potete darlo poi negli appelli successivi. Domanda, una failure in JUnit vale come un errore? Sì, allora, quando abbiamo parlato di JUnit vi dicevo che, almeno teoricamente, un errore è molto più grave di una failure, perché comunque vuol dire che avete commesso un errore di programmazione, mentre invece nell'altro caso avete probabilmente implementato in maniera non corretta i requisiti, ma in termini di valutazione dell'esame, failure e errori valgono esattamente lo stesso. Domanda, per l'appello di settembre non sarà più disponibile il repository? No, no, il vostro repository verrà cancellato a febbraio dell'anno prossimo. Cioè, quando inizierà di nuovo la nuova edizione del corso, quindi avrete i repository sostanzialmente a disposizione fino all'inizio del nuovo corso l'anno prossimo. Allora, mi pare di aver risposto a tutto. Allora, per quanto riguarda le comunicazioni durante l'esame, di responsabili dell'area informatica mi hanno detto che stanno preparando la possibilità di utilizzare una virtual classroom all'interno del Vlive. E quindi ci sarà poi la possibilità di avere una chat, quantomeno, per poter fare operazioni di comunicazione durante l'esame. Per cui, se non fosse possibile, troviamo un'altra modalità, ad esempio utilizzando il Vlive da cellulare o in qualche altro modo, o faremo un gruppo Telegram, qualcosa che permetta comunque di avere un po' di interazione. Domanda sul doppio schermo? Allora, il doppio schermo non funziona con il Lockdown Browser. Quindi il Lockdown Browser sostanzialmente disattiva il doppio schermo. Quindi funziona su uno schermo soltanto. Perché, giustamente, è un browser ed è l'unica finestra disponibile e accessibile sul vostro PC. Per il resto, il Vlive è una macchina che esegue Windows, quindi non c'è nulla di particolare. Le istruzioni per accedere a Eclipse, eccetera, sono le solite, quelle che in realtà non avete mai utilizzato, però sono disponibili sulla pagina del corso, quindi dovrete andare a scegliere programmi vari, Eclipse, avviarlo. Le indicazioni specifiche ve le racconteremo probabilmente venerdì mattina assieme alla presentazione del laboratorio. Allora, domanda si è disconnesso il PC come dobbiamo comportarci? Allora, in caso di problemi di connessione o problemi non recuperabili, tenete presente che se utilizzate il Vlive e c'è una disconnessione temporanea della rete, voi potete ricollegarvi e ritrovate la macchina sostanzialmente in uno stato in cui l'avete lasciata. Per cui, da quel punto di vista non dovrebbe essere un grosso problema. Ovviamente, se ci sono problemi, lo segnalate, se i problemi sono significativi, quindi non riuscite a cedere oppure vi impedisce l'accesso a un certo punto, fatecelo sapere e ovviamente è prevista la possibilità di una specie di sessione di recupero. Allora, l'uso Allora, sulle comunicazioni col docente attualmente non c'è, hanno detto che lo stanno attivando, quindi io aspetto fiducioso che tutto funzioni. La simulazione d'esame non si può fare sulla piattaforma exam, lo facciamo sulla piattaforma exercise che dovrebbe essere assolutamente analoga, almeno, di nuovo, questo è quello che mi hanno detto. L'uso delle zaide attraverso un link, in realtà, in esame è possibile abilitare qualunque link, ovviamente devono essere limitati e controllati, ma è possibile abilitare dei link esterni e quindi quello che potrete fare attenzione non è direttamente alla piattaforma exam l'accesso ma sarà all'interno del vlive quindi quando avrete il vlive voi avrete all'interno del vostro della vostra finestra del browser lockdown vedrete il desktop della macchina virtuale. all'interno potrete aprire un browser quindi c'è il link a Chrome sul desktop potete utilizzare quello per ovviamente collegarvi alle slide o eventualmente a quello che avete a disposizione. Ripeto, queste sono indicazioni di massima stiamo ancora facendo qualche test noi in questi giorni non so se riusciamo a finirli per venerdì quindi darvi la possibilità di iniziare a fare le vostre prove venerdì sera però ragionevolmente per lunedì dovreste avere questa possibilità quindi ovviamente vi avvertiamo appena è tutto disponibile ultima cosa rispetto all'esame il 23 il numero di Vlive attivabili contemporaneamente è limitato quindi è probabile immagino ci sia un certo numero di prenotati probabilmente superiore almeno in base alle statistiche dell'anno scorso superiore al numero di Vlive attivabili contemporaneamente e quindi sarà probabile che l'esame del 23 venga fatto in due turni l'orario ufficiale che vedo sul portale è 14.20 quindi è possibile che ci sia un primo turno alle 14 diciamo fino alle 5 considerando un intervallo di 3 ore per lasciare un po' di margine e il secondo turno poi sarà dalle 5 in avanti ovviamente appena voi avrete la possibilità di prenotarvi noi avremo la possibilità di vedere quanti sono i prenotati e quindi di fare tutte le nostre allocazioni ovviamente avrete informazioni qualche giorno prima appena scade la prenotazione in modo che sappiate a che ora potervi collegare altre domande allora ovviamente se avete domande osservazioni o segnalazioni di problemi Slack è sempre a disposizione in ogni caso noi avremo ancora un paio di lezioni la settimana prossima allora le domande le slide saranno sicuramente disponibili per la parte di programmazione quindi saranno accessibili all'interno del Vlive quindi quando avrete Eclipse potrete utilizzare i riferimenti e ovviamente avrete anche i link alle API che sono forse più importanti rispetto alle slide Ok, allora, di nuovo, Slack è sempre a disposizione nel caso di domande, ho creato un canale esami, quindi quello che possiamo dedicare a questo tipo di informazioni e di segnalazioni da parte vostra, perché, insomma, vorremmo utilizzare questa simulazione per andare a capire quali sono eventuali problemi, in modo da anticiparli prima e cercare di risolverli e trovarci tutti in sede d'esame, sia noi che voi, tranquilli, che tutto possa funzionare. Se ci sono casi particolari, cercheremo di risolverli ovviamente in maniera adeguata. Allora, quante lezioni di argomenti di teoria mancano alla fine del corso? Allora, ci sarà una lezione di teoria, cioè un unico argomento di teoria che è il Configuration Management, ovvero un'overview teorica di subversion e di sistemi analoghi, che è l'ultimo argomento di teoria. e ci sarà ancora un argomento di programmazione, quindi di Java, che riguarda le interfacce grafiche, più un paio di richiami però molto minimi sulle API relative al tempo, però è una cosa veramente minimale e tendenzialmente non è fondamentale, non è qualcosa che viene richiesto in sede d'esame. Quindi diciamo che entro la settimana vi metterò a disposizione l'ultima lezione teorica, quello sul Configuration Management, e l'obiettivo di oggi era per l'appunto quello di introdurvi all'argomento di quelle che sono le interfacce grafiche e che poi ovviamente approfondiremo ulteriormente e concluderemo la settimana prossima. Allora, vi riprendo un'app che avevamo visto un po' di tempo fa, quella del Phonebook, con l'obiettivo di andare a capire un attimo come potremmo andare a costruire un'interfaccia per questa app. Data un'app di questo tipo io posso andare a creare una nuova classe che chiamiamo interfaccia utente. Con un main che andremo a... Allora, scusate, vedo che non c'è un aggiornamento corretto, vediamo se è così migliora. Ok, forse ci siamo. Allora, che tipo di interfaccia utente noi possiamo andare a creare? Allora, una possibilità, quando abbiamo a che fare con un programma, in generale, quindi non sto parlando di questo nello specifico, è di avere quello che si chiama una CLI. la seconda possibilità è di avere quello che si chiama una text-based UI. Terza possibilità è quella di avere una GUI. Quanti di voi sanno cosa significa CLI? Ottimo, più uno all'esame. Common Line Interface, esattamente. ovvero, voi aprite una shell, bash su Windows, o bash, scusate, su Mac o su Unix, il command, ma in realtà adesso stanno portando bash anche su Windows, scrivete un comando con dei parametri, quella è la Command Line Interface. Quindi, se utilizzate dei sistemi operativi in maniera approfondita, quello è il modo di andare a dare dei comandi. Ovviamente è poco interattiva, nel senso che date il comando e lo vedete eseguito. Abbiamo poi quelle che sono delle interfacce basate su testo. A oggi è improbabile trovarne ancora, nel senso che ormai tutte le interfacce hanno una componente grafica o sono interfacce via web. Quindi, se volete, ne abbiamo una quarta che è l'interfaccia web. Tuttavia, fino a, diciamo, una ventina d'anni fa, c'erano ancora delle interfacce a testo. Vuol dire, nella console che abbiamo qui sotto, viene generata un output, c'è il testo, io interagisco col testo. Se avete a che fare con dei server remoti, ci sono ancora alcuni programmi, soprattutto di configurazione e di installazione, che hanno delle interfacce di questo tipo. Oggi, probabilmente, li trovate ancora in qualche vecchissimo sistema informativo bancario o assicurativo, in cui effettivamente ancora vengono utilizzati questi tipi di interfacce, perché i sistemi sono ancora quelli di 30-40 anni fa. E poi abbiamo quelle che sono interfacce grafiche, ovvero, ho delle finestre, esattamente come la finestra che stiamo utilizzando qua, quella che vediamo per Eclipse, questa è un'interfaccia grafica. Infine, abbiamo la variante web, dove non siamo noi a definire una finestra complessivamente, ma andiamo a generare direttamente o tramite delle librerie del codice HTML, eventualmente associato al codice JavaScript, e poi dall'altra parte, quindi in remoto, un browser visualizza il tutto. e quindi, mentre un'interfaccia grafica come questa, stand-alone, agisce direttamente, e quindi crea direttamente le finestre, un'interfaccia web sostanzialmente genera del codice HTML che viene messo dentro un browser. Se noi vogliamo andare a utilizzare una interfaccia di tipo testo, che cosa faremo? Andremo a stampare una serie di opzioni, daremo all'utente la possibilità di scegliere un'opzione, e poi faremo in modo che possa scegliere un'opzione, e gliela faremo utilizzare. Quello che vorrei fare io in questo momento è iniziare a descrivervi vagamente, almeno per gli aspetti più pratici, come può essere costruita una interfaccia grafica stand-alone. Per quanto riguarda un'interfaccia web, chi farà la magistrale in informatica vedrà in uno dei primi corsi che è Sistemi Web come è possibile andare a costruire questo tipo di interfaccia web. Ok? Però non sono oggetto di questo corso. Come è fatta un'interfaccia grafica? Un'interfaccia grafica sostanzialmente ha un elemento fondamentale che è una finestra, ovvero un riquadro che viene mostrato sullo schermo. Ovviamente noi possiamo andare a chiedere al sistema operativo di costruire questa finestra, normalmente invece gestiamo queste interazioni tramite delle classi che rappresentano la finestra e che ci danno già un po' di elementi predefiniti. In particolare in Java esistono un insieme di classi che si chiamano il framework swing che permettono di andare a rappresentare queste classi, classi che vengono poi mappate su finestre mostrate dal sistema operativo. In alternativa al framework swing c'è un altro framework che si chiama JavaFX. È un po' più moderno, un po' più flessibile. Noi per il momento parliamo di swing perché JavaFX è stato soggetto ad alterne vicende. Prima era identificato come successore di swing, poi è stato tolto dall'installazione standard di Java. Quindi non è garantito che ci sia sempre. Allora, domanda, non l'ho messo in primo progetto? No, l'ho messo in phonebook di proposito perché volevo provare a utilizzare le classi già presenti in phonebook come classi di base con cui interagire. Quello che ho detto finora è molto generico quindi in realtà si applica a qualunque interfaccia. Quindi per la nostra breve panoramica sull'interfaccia grafica andremo a utilizzare swing. Tenete presente che buona parte dei principi che vedremo si applicano esattamente cambiando ovviamente un po' i metodi e l'interfaccia sia a swing che a JavaFX. Allora, quello che noi vorremmo fare è sostanzialmente andare a costruire un'interfaccia grafica utilizzando quelli che sono ripeto, delle classi predefinite in quello che abbiamo detto essere il framework swing che ci permettono di andare a rappresentare in maniera relativamente facile con delle classi che nascondono tutti i dettagli delle interfacce grafiche. L'elemento principale di un'interfaccia grafica è la finestra. La finestra in realtà può essere vista in vari modi. Nel caso più semplice, in un sistema operativo, una finestra è semplicemente un rettangolo. Molto spesso invece quando abbiamo a che fare con una finestra abbiamo dei pulsantini in alto, abbiamo una barra di menu, quindi questo concetto quindi di rettangolo mostrato sullo schermo più alcuni elementi, quindi il menu, la barra del titolo, i pulsantini di ingrandimento, ridimensionamento, l'area interna, il bordo esterno che sia ridimensionabile, eccetera, all'interno di Swing è rappresentato da una classe che si chiama JFrame. Quindi è una finestra più alcuni elementi che noi normalmente vogliamo mettere dentro una finestra. fatemela chiamare a finestra. È un oggetto, quindi lo creiamo normalmente. JFrame è una classe che si trova all'interno del package JavaX Swing, e quindi dobbiamo importarlo. A questo punto creiamo una finestra. Crearla non è sufficiente perché quando la creiamo normalmente la finestra non è visibile. finché non facciamo finestra, appunto, set visible true, la nostra finestra non è visibile. quindi il sistema operativo non lo prende in considerazione. Quindi, se io lancio questo programma, ottengo una finestra e la finestra ve la faccio vedere di qua perché me l'ho aperta sull'altro schermo è sostanzialmente questa. quindi questa cosa qua è quello che abbiamo creato con JFrame. Ovviamente è un qualcosa che è ridimensionabile, ok? Solo che quando l'abbiamo creato non gli abbiamo dato nessuna informazione sulle dimensioni e quindi lui ce l'ha ridotto al minimo. il minimo è quello che ospita sostanzialmente i tre pulsantini di chiusura riduzione icona ed espansione che sono sostanzialmente presenti in tutte le finestre. Poi, ovviamente i tre pulsantini che vedete qua sono quelli che ci sono sull'interfaccia Mac se lo fate su un sistema operativo Windows probabilmente troverete i pulsantini messi sulla destra invece che sulla sinistra ma sostanzialmente è una finestra come tutte le altre che vedete sul vostro sul vostro pc. Quindi abbiamo un primo problema che la finestra è molto piccola però lo possiamo andare a ridimensionare. Come vedete non c'è nessun titolo perché nessun titolo l'abbiamo definito e a questo punto quello che posso fare è chiudere la mia finestra torno di qua come vedete di qua altro piccolo problema l'applicazione è ancora in funzione cosa è successo? Beh, sostanzialmente è successo che quando io ho messo la finestra visibile automaticamente Java ha avviato un nuovo thread dedicato a gestire tutti gli eventi grafici quindi i clic sui pulsanti i ridimensionamenti eccetera e quel thread è ancora in funzione nonostante io abbia cancellato quindi chiuso la finestra perché? perché il comportamento standard dei frame è non terminare il programma partendo dall'assunto che probabilmente quella non è l'unica finestra della nostra applicazione quindi il programma non viene terminato ma semplicemente la finestra viene nascosta quindi definiamo un titolo possiamo fare finestra punto set title esempio di finestra aggiungiamo informazioni sulle dimensioni e quindi faccio finestra punto set size e vado a mettere 600 600 questi sono pixel come dimensioni e poi andiamo a specificare che la chiusura di questa finestra dovrebbe sostanzialmente rilasciare tutte le risorse in particolare il nostro thread che è in attesa di eventi grafici e questo lo facciamo con finestra punto set default close operation ovvero l'operazione che deve essere fatta quando viene chiusa la finestra e andiamo a specificare una costante che è disponibile all'interno della classe jframe ci sono alcune opzioni una è exit on close exit on close vuol dire che viene chiamato system.exit quando io chiudo la finestra come avevamo detto a questo punto all'inizio del corso system.exit è un meccanismo un po' brutale di terminazione di un programma che tendenzialmente non dovrebbe essere utilizzato se non in casi estremi quindi questa opzione è meglio evitarla anche perché se ricordate parlando dell'input output abbiamo detto che l'exit non svuota i buffer e quindi se stiamo scrivendo un file system.exit lascia i buffer lì dove sono e quindi i file non li scriviamo tutti quindi tendenzialmente questa è un'operazione che è meglio evitare dispose on close invece è un'operazione che significa nascondi la mia finestra e in più rilascia il thread che sta in ascolto sugli eventi un'altra possibilità è hide on close che vuol dire semplicemente nascondi la finestra questa è l'opzione di default per cui la chiusura prima semplicemente aveva nascosto la finestra ma non aveva fatto nient'altro ce n'è un'altra che è questa che è do nothing on close ovvero come dice il nome non fare niente ignora la chiusura della finestra quindi quello che tendenzialmente noi vorremmo fare è dispose on close ok in questo modo oltre a nascondere la finestra rilasciamo e terminiamo praticamente il thread che è in ascolto sugli eventi grafici ok terminazione a questo punto vedete io vado a terminare l'applicazione precedente perché era ancora lì appesa a questo punto se io eseguo la mia applicazione quello che ottengo è questa finestra vedete che abbiamo il titolo delle dimensioni che sono quelle che abbiamo specificato quindi 600x600 pixel e poi quando chiudo vedete che qui l'applicazione è terminata ok viene rilasciato il thread e a questo punto tutto funziona in maniera tranquilla ovviamente diciamo che questo è è un qualcosa di minimale di solito quello che voglio fare è andare a aggiungere degli elementi alla mia interfaccia grafica in modo da poter interagire con la mia applicazione se torniamo alla nostra applicazione di esempio vedete che io voglio poter aggiungere delle informazioni che sono nome cognome e numero di telefono per cui all'interno della mia finestra che cosa faccio posso andare ad aggiungere degli elementi grafici che permettono di andare a inserire nome cognome e numero di telefono gli elementi grafici sono anch'essi rappresentati da classi specifiche per cui abbiamo una classe che si chiama jlabel che è un'etichetta ok quindi etichetta nome uguale new jlabel e possiamo passare come parametro del suo costruttore etichetta quindi nome due punti jlabel come scusate ingrandisco tutto così lo vediamo meglio jlabel esattamente come jframe si trova nel package java x swing e quindi la devo importare abbiamo poi un altro tipo di elemento grafico che è j text field che chiamiamo nome uguale new j text field anche questo lo importiamo da java x swing un parametro che possiamo mettere nel costruttore di j text field è la dimensione del campo quindi quanti caratteri deve essere grande diciamo 20 e vado a creare nome l'etichetta per il cognome il text field per il cognome quindi qui andiamo a mettere cognome e poi un'etichetta per il telefono un text field per il telefono in questo modo coppie scusate ve li separo così etichetta e successivamente il campo di testo e poi possiamo ancora andare ad aggiungere per completare la nostra panoramica un jbutton inserisci uguale new jbutton ok inserisci jbutton esattamente come le altre classi si trova in java xwing e deve essere importato questi elementi questi elementi creati così sono elementi a sé stanti devo andare a aggiungerli a quella che è la finestra che ho creato prima e quindi devo fare un finestra punto ad etichetta del nome finestra punto ad il nome finestra punto ad etichetta del cognome finestra punto ad il cognome finestra ho scritto male prima punto ad l'etichetta del telefono finestra punto ad il telefono quindi il campo di testo e poi finestra punto ad infine il pulsante inserisci a questo punto se io vado a mostrare la mia e vado a lanciare il programma che crea questa finestra quello che ottengo è sostanzialmente questo vedete che c'è un grosso pulsante che si chiama inserisci e tutto questo è un unico pulsante qual è il problema ok si vede adesso ok qual è il problema il problema è che tutto questo grosso pulsante in realtà copre il resto perché perché sostanzialmente io ho aggiunto gli elementi ma non ho dato nessuna indicazione su come andare ad aggiungere gli elementi come disporli e quindi la mia finestra dice come faccio quello che posso fare è chiudendo la nostra finestra andare a specificare quello che si chiama un layout manager quindi prima di inserire gli elementi posso fare jframe punto non jframe ma finestra set layout e passare un oggetto che si chiama tipo layout manager che va a prendere gli elementi e li dispone all'interno della mia finestra per cui il layout manager può essere ad esempio un new flow layout flow layout è da importare ovviamente si trova si trova in java appunto awt ed è quello che mi mette gli elementi uno dopo l'altro quindi vado di nuovo a lanciarlo vi faccio vedere la finestra ok forse ci siamo e questi sono gli elementi che sono stati inseriti vedete l'etichetta nome più il campo nome l'etichetta cognome più il campo cognome l'etichetta telefono più il campo relativo e il pulsante inserisce vedete che il flow layout mi ha messo gli elementi uno dopo l'altro centrati se io vado a ridimensionare la finestra vedete che man mano questi vengono ridisposti in modo da riempire delle linee e poi andare a capo domanda le classi senza j sono di java fx allora no in realtà ci sono state tre grosse evoluzioni in java adesso ve le schematizzo qua relativamente alle interfacce grafiche in java sostanzialmente la prima il primo framework che permetteva di gestire l'interfacce grafiche che si chiamava a wt che sta per abstract window toolkit una schifezza nel senso che è molto poco efficiente con grande occupazione di memoria è abbastanza lento e quindi è stato poi rimpiazzato da swing a volte veniva chiamato jfc java foundation classes però il nome che viene utilizzato ancora adesso infatti si chiama java x swing il package è quello e più recentemente java fx dentro avuti abbiamo la classe frame window button eccetera sono sostanzialmente le versioni precedenti per compatibilità all'indietro java anche nelle versioni attuali ancora mantiene le classi avuti anche perché alcune classi dell'avuti sono tuttora utilizzate questo flow layout effettivamente è un oggetto che era ancora definito nelle vecchie awt infatti si trova nel package java.awt quindi tra swing e avuti non c'è stato una netta divisione ma bensì swing ha ancora utilizzato qualcosetta che stava in avuti però permetteva la coesistenza essendoci entrambe le classi quindi sia quelle vecchie che quelle swing la decisione che è stata fatta è stata quella di dare al nome delle classi swing un prefisso la j che per l'appunto permettesse di distinguere le classi nuove swing da quelle vecchie awt le classi che si trovano in java.fx hanno di nuovo uno schema di nomi diversi e si trovano in un altro package quindi tornando alla nostra interfaccia grafica vedete che il flow layout è veramente banale nel senso che mette tutti gli elementi a partire dall'angolo in alto a sinistra tutti gli elementi che ci stanno su una riga quando questi non ci stanno più quindi il prossimo elemento supererebbe la dimensione orizzontale della finestra va a capo tra l'altro il grosso vantaggio del layout manager è che fa questa operazione in maniera dinamica quindi se io ridimensiono la mia finestra automaticamente mi ridispone gli elementi quindi io posso andare a ridurli e in questo modo automaticamente mi aggiorna il layout immaginate voi di dover risolvere esplicitamente questo problema con del vostro codice ogni volta che viene ridimensionata la finestra viene chiamato un vostro metodo il vostro metodo che cosa fa? va a vedere l'elenco di tutti gli elementi presenti tutti quelli che si chiamano widget o controlli conosce la dimensione e cerca di disporli uno per uno quindi scrivere questo codice di volta in volta risulta essere pesante soprattutto alla fine rischiate di commettere qualche errore invece la classe flow layout fa tutto questo in maniera automatica esistono tanti altri layout manager che permettono di avere delle disposizioni un po' più complesse utilizzando ovviamente dei criteri diversi ad esempio andare a organizzarli su una griglia allora per quanto riguarda le gui vi pubblico poi una serie di slide relative e farò una lezione un po' più teorica su come gestirla in ogni caso sui tutorial disponibili sul sito oracle trovate anche delle guide relative alla swing non ho il link a disposizione adesso ma ve lo posso poi mettere dopo ok non entriamo nel dettaglio e questo è una lezione introduttiva giusto per farvi una panoramica sulle problematiche poi riparto con una lezione un po' più strutturata presentandovi tutti gli argomenti uno dopo l'altro e i dettagli a questo punto quello che abbiamo fatto è semplicemente la parte grafica allora domanda questa potrebbe essere la finestra per dell'app di contatti che riguarda l'inserimento ok ovviamente possiamo avere adesso io ho fatto una finestra unica molto molto semplice potremmo averne più di uno effettivamente come dei contatti potremmo averne tanti ok questa è una potremmo mettere qui dentro tanti altri elementi ad esempio un'area per la stampa un'area per la cancellazione un'area per la ricerca eccetera oppure fare delle sottofinestre diverse in questo momento io non voglio entrare nei dettagli di come andare a strutturare un'applicazione grafica perché esula sicuramente dal da questo corso ok quello che voglio darvi sono i concetti base su cui si fondano le interfacce grafiche non solo quelle in java ma buona parte delle interfacce grafiche e ovviamente andare a progettare un'interfaccia grafica è una cosa tutt'altro che banale e ovvia e quindi vedrete questo eventualmente in altri corsi questa è soltanto la parte grafica ok manca il contatto tra questo e quello che sta dietro e soprattutto manca un altro elemento se io faccio inserisci qua non succede assolutamente nulla ok mi si colora il pulsante ma è una funzionalità dell'oggetto jbutton che quando faccio clic mi colora lo sfondo del pulsante però sostanzialmente non fa nulla domanda come si testa un'interfaccia grafica allora sì è possibile testare un'interfaccia grafica lo si fa lo vedremo poi più avanti è possibile andare a interagire direttamente con gli elementi che stanno sull'interfaccia grafica inserendo del testo andando a cliccare sui pulsanti è effettivamente complicato però è possibile farlo e ci arriveremo poi più avanti non ho iniziato dal test perché è un po' articolato prima cerchiamo di capire quali sono i principi base e poi parliamo di test e di interfaccia grafica quindi abbiamo due componenti ancora che mancano rispetto ad aggiungere questa finestra uno come fare comunicare questa finestra con la parte che abbiamo già sviluppato adesso vi apro il codice però qui dentro faccio riferimento a questa app abbiamo la classe phonebook che ha il metodo scusate fatemi scorrere il metodo getName il metodo add il metodo first il metodo get il to string il find dovremo dovremo fare fare in modo che data un'operazione fatta sull'interfaccia grafica quindi sulla finestra che abbiamo appena disegnato alla fine ci sia un collegamento a questo e soprattutto anche collegamento inverso nel senso che quando inserisco un elemento o quando lo ricerco poi mi venga mostrato il contenuto e soprattutto andare a gestire gli eventi che io posso andare a generare sull'interfaccia grafica quindi i click l'inserimento di testo eccetera con delle operazioni che possono essere legate all'interfaccia grafica possono essere legate a questa parte di contenimento dei dati normalmente quando si organizza un'applicazione con un'interfaccia grafica scusate provo a vedere se riesco a farlo funzionare correttamente quando si crea un'applicazione con l'interfaccia grafica quello che si utilizza è un approccio che si chiama o diciamo meglio un pattern che si chiama model view control adesso vi mostro un esempio se lo trovo ok dovreste vederlo allora il principio che utilizzo quando vado a costruire un'interfaccia grafica si basa sul model view control esistono poi alcune varianti ad esempio view representation però sostanzialmente sono per l'appunto varianti di questo pattern di base quando ho un'interfaccia grafica la strutturo secondo questi tre componenti principali che si chiamano per l'appunto model view e controller questi tre componenti hanno tre scopi nettamente diversi il primo il model è quello che contiene i dati quindi nel nostro caso la classe phonebook più l'altra classe contatto che sostanzialmente rappresentano i dati e forniscono dei metodi che possono essere poi utilizzati da chi vuole usare questi dati per andare a creare nuovi dati cercarli aggiornarli cancellarli eccetera il secondo componente è quello che si chiama view la view ha come obiettivo lo suggerisce il suo nome visualizzare i dati quindi il componente view che cosa fa accede ai dati che si trovano nel model e li visualizza quello che abbiamo fatto fino a qualche istante fa era per l'appunto andare a costruire quella che si chiama la view la visualizzazione dei dati ovviamente bisogna poi andare ad agganciare la view con quello che sono i dati il modello il terzo componente è quello che si chiama controller ovvero quello che sostanzialmente permette di gestire gli eventi io qui vi ho disegnato un mouse diciamo vecchio stile ma ovviamente gli eventi non sono soltanto quelli che arrivano dal mouse ma sono quelli che arrivano dalla tastiera ad esempio dal touchpad che abbiamo quasi noi tutti sul sul portatile dal touch per cui se la nostra applicazione viene eseguita su un dispositivo mobile che quindi ha un touch screen possiamo avere eventi di tipo touch tenete conto che alcuni eventi potrebbero essere potrebbero provenire indifferentemente da tanti elementi per cui il click io lo posso fare in maniera indifferente con un mouse diciamo fisico esterno col touchpad con il touch screen e sostanzialmente l'evento che arriva al nostro controller è lo stesso il click in una certa posizione però ci sono tanti altri eventi che sono molto diversi per cui immaginate la tastiera la tastiera ovviamente non fa eventi di click ma fa eventi di inserimento dei tasti o meglio quando abbiamo a che fare con una tastiera abbiamo degli eventi ancora più dettagliati più granulari per cui abbiamo la pressione e il rilascio di un tasto se ci interessa questo livello di dettaglio possiamo avere eventi in generale di qualunque altro tipo ok per cui se abbiamo un sistema per dire Xbox gli eventi potrebbero essere le posizioni degli utenti che vengono inquadrati dalla telecamera ok alcuni eventi potrebbero essere la posizione se abbiamo un cellulare la posizione o la variazione di posizione del cellulare potrebbero essere altri eventi ok quindi evento è qualunque cosa possa interessare alla nostra applicazione l'idea è di avere un componente separato che sia in grado di gestire tutti gli eventi e in risposta a un evento possa andare a eventualmente aggiornare la nostra vista quindi noi stiamo visualizzando i dati in maniera grafica un click su un pulsante cambia la visualizzazione e ci fa visualizzare i dati in maniera grafica invece che testuale oppure cambia l'ordinamento dei dati i dati sono sempre gli stessi però vengono visualizzati in maniera diversa oppure il controller che cosa può fare può andare a operare sul modello quindi potrebbe dire aggiungi un elemento cancellalo o fai altre operazioni di questo tipo domanda java ha dei metodi per interfacciarsi con il sistema operativo per definire nuovi tipi di eventi allora si e no nel senso che ci sono in base al sistema operativo io posso ricevere alcuni eventi gli eventi che però sono definiti in java sono tendenzialmente eventi di tipo standard non posso andare a inventarmi nuovi eventi o meglio lo posso fare però devo gestirli in maniera un po' speciale quindi non direttamente con swing quindi swing ha una serie di eventi standard e quelli sono per cui quello che io faccio è sostanzialmente andare a mostrare all'interno della mia interfaccia quello che prendo dal modello e gestire gli eventi che vanno a condizionare cosa e come viene mostrato dal nostro modello view ed eventualmente vanno a fare delle operazioni sul nostro modello quindi il model è il depositario dei dati e delle operazioni che possono essere fatte sui dati tenete presente che questo tipo di pattern funziona in tantissime situazioni perché la view che noi abbiamo disegnato finora è una view grafica nulla ci vieta di avere una view di tipo testuale ok in questo caso il modello non cambia assolutamente cambia la view ma non il modello il controller anche questo cambia perché in funzione del tipo di interfaccia posso avere diversi tipi di eventi ok però dato un'interfaccia grafica o testuale io posso andare a inventarmi un controller che ad esempio oltre ai click del pulsante si è in grado di gestire gli shortcut dalla tastiera oppure dei click particolari sullo schermo o se avete una touch bar o altri tipi di input che si è in grado di gestire quegli eventi rimappandoli su operazioni che sono già definite sul nostro modello quindi il grosso vantaggio di questo tipo di modello è per l'appunto che di questo tipo di pattern scusate è per l'appunto che tendenzialmente una volta che io ho definito il modello questo resta tale e quale qualunque sia il tipo di interfaccia può essere grafica può essere testuale potrei avere un'interfaccia web in questo caso il componente view che cosa fa prende i dati dal mio modello e va a generare dei contenuti diciamo in html che poi verranno inviati al browser e quindi il browser visualizzerà quello il controller che cos'è? beh sostanzialmente è un pezzo del server che riceve le comunicazioni dal browser quindi quando io clicco un pulsante sul browser viene inviata una richiesta al server il server che cosa fa? riceve l'evento e cosa fa? modifica eventualmente il modello e aggiorna la view quindi chiede di generare un nuovo contenuto html che verrà inviato al browser in tutto questo il nostro modello non cambia il punto fondamentale di questo pattern è per l'appunto che io posso andare a toccare un componente piuttosto che l'altro andando a influenzare in maniera molto limitata gli altri componenti per cui io in un modello potrei andare a modificare ad esempio il tipo di memorizzazione la memorizzazione che abbiamo visto nel nostro esempio è locale come nella memoria dinamica potrei decidere di fare una memorizzazione che si appoggia ad esempio su un database a fronte di questa modifica view e controller non vengono toccati minimamente perché tanto i metodi di add di find eccetera restano tali e quali i dettagli interni del model non influenzano minimamente la parte di view e di controller vediamo come possiamo aggiungere allora la parte di view allora sui get data non l'abbiamo fatto nel senso che l'interfaccia che abbiamo fatto noi in realtà serve per inserire dei dati non per visualizzarli ok lo possiamo aggiungere per il momento iniziamo a concentrarci sulla parte di controller che è quella che non abbiamo ancora visto vi termino questo e torniamo al nostro codice nella nostra interfaccia utente quello che dobbiamo fare è ovviamente abbiamo la nostra finestra che va bene ovviamente ci manca un altro elemento l'altro elemento è il modello vuol dire che noi dobbiamo andare a creare un oggetto di tipo phonebook rubrica uguale new phonebook ok quello che abbiamo fatto qui è la view questo è il modello allora il fatto che ci siano tre componenti separati non vuol dire che io devo andare a fare tre classi o tre package separati ok l'importante è che io abbia questi tre blocchi di codice e sappia che siano che rappresentano tre elementi in realtà l'oggetto phonebook è una classe a sé stante e poi devo andare a mettere quello che è il controller il controller sostanzialmente è un qualcosa che dato un evento è in grado di eseguire un'operazione come facciamo a farlo sostanzialmente tutti gli oggetti che noi abbiamo inserito hanno la possibilità di ricevere degli eventi questi eventi loro non li gestiscono normalmente quindi quando io vado a fare un click su un pulsante lui che cosa fa semplicemente mi colora lo sfondo e basta in realtà io vorrei che a fronte di un evento su quel tipo di pulsante fossero eseguite una serie di operazioni questo io lo posso fare andando a prendere ad esempio il pulsante inserisci andando ad aggiungere quello che si chiama un listener se ricordate quando abbiamo parlato di interfacce di pattern legati all'interfacce avevamo parlato del pattern observer observable ecco qui stiamo sostanzialmente ri utilizzando quel tipo di pattern il pulsante l'oggetto jbutton è un observable noi stiamo aggiungendo un observer che verrà avvisato quando si verifica un evento sul nostro pulsante quindi inserisci facciamo add action listener il listener che cos'è? è un oggetto che implementa un'interfaccia ben definita in particolare l'interfaccia si chiama action listener per l'appunto e definisce dei metodi che verranno chiamati dal pulsante quando si verifica l'evento corrispondente quindi l'action listener è un'interfaccia molto molto semplice che ha un unico metodo che si chiama action performed che riceve un parametro di tipo action event che vado a importare e sostanzialmente vado a creare un oggetto questo oggetto è quello che poi nel nostro terminologia mvc è il controller e questo controller che cosa fa? andrà a dire string valore nome uguale a nome punto get text quindi va a prendere il testo che è definito che abbiamo scritto noi dentro l'elemento il textfield testo quindi quanto scritto nel text field nome string valore cognome uguale cognome punto get text string valore telefono uguale telefono punto get text e poi andrà a operare sul modello facendo rubrica punto add valore 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 cognome e valore telefono se volete vi possiamo fare un system out println cliccato sul pulsante e poi qui posso fare un system out println rubrica punto no si chiama si rubrica tutto string ok a questo punto vi riduco questo chiudiamo la finestra perché questa è la vecchia interfaccia grafica vado a lanciare la nuova interfaccia grafica che mi comparirà da qualche parte eccola qua ok quindi giuseppe verdi e poi faccio clic su il pulsante vedete che mi ha stampato sul sullo standard output cliccato sul pulsante appena sono entrato qua dentro e poi mi ha stampato il contenuto della mia nuova rubrica ok se io vado a mettere Maria Rossi e vado a mettere un altro numero di telefono e inserisco quest'altro vedete che di nuovo cliccato sul pulsante a questo punto ho aggiunto un altro contenuto ovviamente quello che potrei fare è aggiungere qui un nuovo elemento ad esempio quello che è un text field e andare ad aggiungere dentro tutti gli elementi che vado di volta in volta ad aggiungere l'elemento importante è da ricordare che in generale noi partiamo da quello che è un modello che contiene i dati li memorizza come vuole potrebbe memorizzare in memoria esattamente come nel nostro caso specifico potrebbe memorizzare in un database potrebbe memorizzare in qualche servizio remoto non importa in realtà è un aspetto che è nascosto non è visibile quello che importa è che sopra questo modello noi andremo a innestare due elementi quello che è la view e quello che è il controller la view si preoccupa di visualizzare i dati in un modo o nell'altro di nuovo è un problema complesso il design delle interfacce grafiche e delle interazioni con l'utente è molto complicato ok c'è un corso di user interface user interaction design nella magistrale di informatica che è dedicato a questo problema quindi non penso minimamente di darvi alcuna indicazione potete approfondire per conto vostro potete seguire quel corso e il controller semplicemente cosa fa aggiunge la parte di interazione quindi risponde a degli eventi e agisce sia sul modello che sulla view andando a cambiare la visualizzazione o andando a cambiare i dati sul modello per cui ad esempio chiama il metodo add sul modello nel nostro caso la nostra rubrica e eventualmente stampa in output potrebbe tranquillamente andare ad aggiornare un campo ulteriore che è presente all'interno della nostra nella nostra finestra qui vi aggiungo un altro elemento j text area diciamo contenuto uguale new j text area l'area di testo può avere delle dimensioni orizzontali e verticali perché mentre il text field ha un'unica riga la text area può avere molte righe quindi possiamo fare 30x20 e poi vado a fare un finestra punto add contenuto e qui invece di stampare posso fare contenuto punto set text rubrica punto punto string ok salvo tutto allora c'è un errore qui ho dimenticato un punto e virgola questo punto vediamo se apre la finestra allora questo è il costo contenuto allora se io vado ad aggiungere inserisci inserisci vedete che compare qua nell'uput e qui mi compare e qui mi compare l'altro ok quindi quindi il model quindi il model se ci pensate è esattamente quello che avevamo scritto qualche mese fa due mesi fa più o meno la view l'abbiamo costruita in maniera molto artigianale approssimativa ma non era quello il punto il controller è composto da una serie di frammenti di codice di solito listener che permettono di andare a rispondere in qualche modo a degli eventi in questo caso torno un attimo su questo nostro listener in questo caso il tipo di evento è un evento di tipo action quindi un'azione che va a corrispondere all'azione che io svolgo su un pulsante potrebbero esserci eventi di tipo action su menu che cosa fa va a prendere il testo che è presente dentro nome cognome telefono che sono dei ve lo faccio vedere qua sopra avevamo definiti qua sopra tutti i componenti abbiamo nome cognome e telefono che sono tutti jtex field e infine va a scrivere dentro questo oggetto contenuto il tipo jtext area che è l'area di testo che infine abbiamo aggiunto e che compare in fondo a tutto quindi la jtext area è un qualcosa che presuppone di avere più linee quindi è un'area abbastanza ampia il costruttore riceve due parametri che sono il numero di righe il numero di colonne e l'abbiamo aggiunto in fondo al nostro contenuto quindi l'ultima operazione che fa il nostro listener che è uno dei pezzi che stanno dentro il controller possiamo avere tanti altri tipi di eventi ok in questo caso non me ne vengono in mente altri significativi ma in un'interfaccia complessa posso avere tanti tipi di eventi e quindi in questo caso cosa faccio vado a prendere la rappresentazione stringa della mia rubrica e la metto dentro come testo dentro il nostro contenuto in questo nostro esempio io ho messo tutto dentro un unico metodo quello che normalmente si fa è andare a mettere tutta questa parte che riguarda la view in una classe separata anche perché qui l'abbiamo scritta in maniera molto veloce e sintetica ma quello che può succedere è che l'interfaccia possa essere estremamente complicata e quindi normalmente non la metto dentro il main ma la metto in una classe separata il model è già per come l'abbiamo scritto una classe separata il controller è anche quello spesso può essere rappresentato come una classe separata oppure può essere messo dentro la classe della view come un componente a parte che gestisce gli eventi ok quindi quei tre componenti model view e controller possono essere implementati in maniera diversa l'importante è che concettualmente ci ricordiamo che sono utili tutti e tre questo corso sostanzialmente si è focalizzato fino a questo punto su come andare a costruire un model quindi andare a definire uno o più classi che forniscono dei servizi che poi possono essere utilizzati da un'eventuale interfaccia grafica web testuale vocale telepatica quello che preferite il modello è sempre quello a questo punto vi metto a disposizione ovviamente il codice quindi poi potete provare a eseguirlo e ovviamente modificarlo vi presenterò un paio di lezioni più specifiche in cui riprendo tutto per bene in maniera ordinata la parte di gestione delle interfacce grafiche questa vuole essere semplicemente un'introduzione a quelli che sono i concetti fondamentali in modo che possiate poi approfondire oltre a le interfacce grafiche come questa che abbiamo appena creato ci sono altri tipi di interfacce grafiche in cui tutta la finestra oppure un semplice componente non è un'etichetta un'area di testo un pulsante ma magari contiene una rappresentazione grafica e quindi è abbastanza diverso in termini di gestione e quindi devo andare a garantire che esistano una serie di interfacce una serie di metodi che mi permettono sostanzialmente di andare a disegnare diciamo così punto per punto all'interno di un componente o di una finestra e per cui vedremo anche esempi di quelle ripeto quello sono esempi giusto per darvi un'idea di come si fa sono a margine di questo corso ok prima di terminare un'altra piccola osservazione sul nostro controller come vedete qui quando io ricevo l'evento inizio a fare una serie di operazioni cosa succede se queste operazioni sono diciamo così complesse possono portare via molto tempo sostanzialmente succede che se queste operazioni sono molto complesse portano via del tempo immaginate che invece di scrivere in locale io scrivo su un database che si trova dall'altra parte del mondo l'operazione potrebbe richiedere molto tempo e nel frattempo cosa succede che l'unico thread che è in ascolto sugli eventi normalmente in questo momento sta eseguendo questo metodo quindi qualunque altra cosa io cerchi di fare sulla mia interfaccia grafica non succede nulla per cui ad esempio se io qui metto un thread slip 5000 lo mettiamo dentro un try catch ignorando eventuali eccezioni vado a chiudere le finestre che eventualmente avevo lasciato aperto creo la mia finestra ok mi è comparsa è tutto molto molto lento ma credo che sia dovuto al collegamento con la con la virtual classroom che non è particolarmente efficiente quindi se faccio inserisci ecco vedete che resta tutto bloccato non riesco a ridimensionare ma non succede ecco riesco a dimensionare dopo i 5 secondi ok anche il pulsante era stato visualizzato la mia interfaccia sostanzialmente è congelata anche qui vedete che non si ridimensiona nulla la mia interfaccia è bloccata dopo che l'operazione è terminata allora si viene gestito l'evento a questo punto qual è la soluzione la soluzione è di andare a eseguire tutto questo non all'interno del thread principale che gestisce l'interfaccia grafica ma all'interno di un thread separato per cui quello che posso fare è andare ad esempio a definire un esecuto service esecutore uguale 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 new new cash thread pool quindi ne ho preso uno veramente a caso quindi quello che crea tutti i thread necessari per l'esecuzione e qui dentro in risposta a questo evento che cosa faccio? andrò a dire esecutore punto submit ho dimenticato una tonda qua ok quindi lancio in esecuzione presso l'esecutore quell'operazione che può essere lunga 5 10 20 30 secondi quello che vogliamo nel frattempo il thread di gestione degli eventi stampa semplicemente questo e poi torna a gestire il prossimo evento quindi la mia applicazione non è più congelata quindi in generale è buona norma quando io ho delle operazioni che potrebbero essere lunghe immaginate di dover salvare il contenuto di un documento su un file ecco quella è un'operazione che può portare via magari più secondi se io voglio evitare di congelare la mia interfaccia grafica in questo intervallo di tempo questa è una soluzione faccio eseguire l'operazione potenzialmente lunga all'interno di un nuovo thread non ho usato direttamente i thread ma era un'altra alternativa gli executor service sono un pochettino più semplici da usare non devo ricordarmi di creare i thread avviarli e controllarli ok quindi a questo punto se la mia operazione domanda se volessi eseguire subito dopo la stessa operazione sarebbe messa in coda allora normalmente gli eventi vengono accodati quindi se io ho un esecutore di questo tipo le due operazioni potrebbero partire una dopo l'altra questo perché ho utilizzato un thread pool se avessi un esecutore con un unico thread sarebbero queste operazioni accodate all'interno dell'esecutore dipende un po' dalle politiche dell'esecutore in generale per quanto riguarda gli eventi questi vengono automaticamente accodati per cui avete visto nell'esempio prima io ho ridimensionato la finestra o in realtà ho provato a ridimensionare la finestra quindi quell'evento di trascinamento non ha avuto effetto subito ma appena si è sbloccato il ridimensionamento è stato fatto domanda se chiudo se chiudo la finestra l'esecutore continua a finire le procedure sì l'esecutore continua a finire in realtà a questo punto se io termino la mia applicazione l'esecutore resta comunque attivo quindi l'applicazione non termina domanda se volessi fare una barra di caricamento nell'attesa di processamento dei dati potrebbe essere messa qua dentro immaginando di avere un loop che fa non so 10.000 iterazioni io ogni 1000 iterazioni vado ad aggiornare la dimensione della barra questo potrebbe essere un modo di farlo domanda in questo caso il mio thread slip che cosa fa mette in pausa il thread dell'esecutore mentre invece il thread principale quello che ha chiamato fatto il submit fa il submit e poi continua a gestire gli altri eventi quindi comunque c'è una pausa però non del thread principale ma del thread dell'esecutore per cui vedete che il tema dei thread che sembrava un po' fuori da quanto visto prima in realtà è un qualcosa che ci serve poi per gestire questo tipo di elementi e di comportamenti di nuovo ripeto sia l'interfaccia grafica che i thread non sono elementi centrali in questo corso però mi sembra corretto che voi vediate come si integrano all'interno di java perché poi se utilizzate in pratica sono un qualcosa molto legato al linguaggio a questo punto se non ci sono altre domande faccio il commit di questo codice sul repository e direi in giornato domani al più tardi vi pubblico le lezioni più specifiche sui thread che cercano di riprendere le cose che abbiamo detto oggi in maniera un po' più applicata e specifica dandogli un inquadramento un po' più generale allora per il quanto riguarda i thread non ci saranno nella parte di programmazione potrebbe esserci qualche domanda molto semplice almeno sui concetti generali nelle domande di teoria per le interfacce nel caso in cui compaiono nell'esame quello che vi chiedo normalmente è data già la parte di controller che è sviluppata per il resto dell'esame e dato una view che io vi fornisco perché oggettivamente richiede molto tempo nell'essere definita eventualmente di andare a definire dei listener che fanno qualche operazione in risposta a un evento quindi in generale rispetto a quello che abbiamo visto oggi l'unica cosa che vi potrei chiedere è sviluppare il model perché comunque è una parte a lato e scrivere sostanzialmente del codice analogo a quello che vedete qua non necessariamente utilizzando l'esecutore ok diciamo che quello è un dettaglio ulteriore però sostanzialmente andare a prendere il testo dai text field andare a chiamare un metodo sul model ecco questo è quello che potrebbe capitarvi come esercizio all'interno di un tema l'esame domanda open GL e altre librerie credo che facciate qualcosa meno gli informatici nei corsi di informatica grafica però non conosco i contenuti del corso aggiornati allora domanda nel caso di azioni in caso in cui ci sia un elemento che possa avere più azioni possibili si può utilizzare il metodo action event allora in realtà quando io ho delle azioni diverse ad esempio il focus o il click su un elemento non uso degli action listener ma uso dei tipi di eventi diversi però se ad esempio ho il click del mouse su un elemento per sapere esattamente la posizione in cui il click viene svolto posso utilizzare per l'appunto l'evento l'oggetto evento che viene passato che contiene i dettagli sull'evento stesso ci sarà un'estensione di un'esercitazione in cui verranno fatte le interfacce ripeto non sono un elemento fondamentale di questo corso perché ovviamente le vediamo adesso alla fine del corso quindi è molto limitato ok a questo punto direi che non mi pare ci siano altre domande quindi terminiamo la registrazione